Cobra è un gruppo di pittori espressionisti il cui nome è un acronimo che deriva dalle prime lettere di Copenaghen, Bruxelles e Amsterdam, capitali dei paesi da dove provenivano gli artisti principali. Nella sua triplice origine Cobra si caratterizzava per una volontà deliberatamente anticonformista. Possiamo sicuramente affermare che Cobra fu il più importante movimento europeo del dopoguerra nel quale si fusero tutte le tendenze moderne, astrattismo, surrealismo e espressionismo in quanto ciascuna di esse conteneva di essenzialmente dinamico. L'olandese Karel Appel, il belga Cornell e il danese Asger John furono le figure di punta oltre che i fondatori del gruppo. Si aggiungeranno poi Pierre Alechinski, il pittore scozzese William Gere, lo scrittore e pittore belga Christian Dottremont che suggerì il nome e fu il portavoce del gruppo. Cobra prese vita l'8 novembre 1948 per poi sciogliersi pochi anni dopo nel 1951. Il gruppo venne fondato a Parigi nel caffè sul retro dell'hotel Notre Dame ma le mostre di Cobra furono organizzate anche a Copenhagen, Amsterdam e Liegi. L'obiettivo dei pittori del Cobra era di far emergere la libera espressione dell'inconscio senza impedimenti o direzioni dell'intelletto. Nel loro sottolineare l'importanza del gesto spontaneo ebbero una forte affinità con gli action painters americani ma si differenziarono da questi per la loro immaginazione ghizarra e fantastica, collegata in alcuni casi alla mitologia e al folklore nordici, in altri legata a simboli magici e mistici dell'inconscio. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Artesplorando!